Lo scorso anno il GIP del Tribunale di Milano non accolse la tesi dei PM sull'esistenza di un presunto consorzio mafioso costituito da esponenti di indrangheta, cosa nostra e camorra, attivo nell'Interland del capologo Lombardo nei territori limitrofi. Per gli inquirenti c'erano anche i gelesi nella struttura criminale. La procura meneghina chiede al riesame di rivedere i provvedimenti. Ci fu l'autorizzazione infatti solo all'esecuzione di 11 misure di custodia cautelare in carcere, comprese quelle per i gelesi Dario Nicastro, Francesco Nicastro e Rosario Buonvissuto. Non ne vennero accolte altre 142, ragione che ha indotto i PM a rivolgersi al riesame. Ritengono ci siano invece negli estremi per autorizzare tutte le misure restrittive. Ci sono voluti alcuni mesi per completare le attività di notifica. Le udienze inizieranno a metà marzo e ce ne vorranno almeno una decina per completare la discussione di tutti i ricorsi. Gli inquirenti ricostruirono centinaia di episodi, comprese estorsioni, danneggiamenti atti da commerciali e interessi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Furono monitorati quelli che per gli investigatori erano summit di mafia tra rappresentanti delle famiglie siciliane, calabresi e campane. Dai Rago e Assago erano i punti di riferimento per gli incontri, questo hanno appurato gli investigatori. Secondo il GIP però gli elementi di prova risulterebbero del tutto carenti. Il PM Alessandra Cerreti ha formalizzato i ricorsi in base all'indagine IDRA. Anche i presunti referenti del boss Matteo Messina Denaro avrebbero gravitato in quel contesto criminale. I gelesi coinvolti non avrebbero risparmiato azioni violente pur di imporsi e garantire attività a loro vicine. Da marzo quindi i giudici del resame dovranno valutare i ricorsi e le posizioni dei coinvolti nei cui confronti però non è stata autorizzata alcuna misura restrittiva.